e bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video più esattente e torniamo su airson per andare a provare un mazzo contro e quando parliamo di control vogliamo ovviamente parlare di una classe specifica e l'unica classe che rappresenta i mazzi control è semplicemente una control priest e il prete in generale ecco control priest è un mazzo davvero fastidioso ostico da giocarci contro io quando lo vedo contro già mi viene il sudorino dico no ma perché proprio me ma questo qua non ha una vita bene oggi non avremo noi una vita mazzo davvero forte mazzo davvero interessante ha delle giocate incredibili che ora vi andrò a spiegare una a una allora com'è che funziona dipende un pochino come volete impostare la partita ci saranno alcune partite in cui vorrete andare a fare più combo per andare a rubare valore e ad esempio anche creare value o comunque andare a spaccare le combo di avversario pensiamo a match up contro come un mirror o ad esempio contro warrior e compagnia bella invece match up in cui magari volete andare a gestire a bordo come contro i mazzi aggressivi trent druid eccetera eccetera oppure un misto delle due contro i mid range ecco la lista riesce a fare più o meno tutto quanto bene assortimento ad esempio a un ottimo silence come il frammento del naru per andare a rimuovere delle board ad esempio in cui l'avversario gioca ranto di morte gioca solo the forest e compagnia bella la luce brucia single target remover serpinnus per aggiustarsi a mano accorre il potere è una di quelle carte ideali no per riuscire a ottimizzare il valore che potete ottenere da questo mazza no potete farlo su un servitore value base dell'avversario potete farlo sul vostro titano ma in alcune situazioni se ad esempio giocate contro warrior e sapete che potrebbe avere bran in mano perché avete fatto furto di identità e avete visto che a bran ecco magari fate talpa di fogna non trovate bran ecco che a quel punto fate accorrere potere vi andate a riprendere talpa e rigiocate talpa potete fare delle giocate del genere che diventano molto molto interessati in base al match up ovviamente dipende sempre dall'avversario e questa è la figata del prete che in base all'opponente tutti adegui acqua vera sacra per andarsi a curare molto utili queste spell che si ricassano per la naga a 3 che va a pescare 3 carte ma lo andremo a vedere più avanti protocollo di creazione spesso e volentieri anche qua dipende un pochino dal match up potreste a volte voler andare a prendere la 2-6 da quello a volte volete andare a prendervi cure a volte vi volete andare a prendere valore insomma dipende un pochino da cosa state andando a giocare a volte addirittura vi potreste andare a prendere danni addirittura quindi è molto molto flessibile e per questo motivo molto interessante questa lista amore eterno è una di quelle carte utili sempre andarsi a scontare le proprie spell e quindi poter fare delle giocate tempo quando tempo non sarebbero ancella è il card draw di cui stavamo parlando prima uno dei card draw principali del deck banchier benevolo altro card draw che tra l'altro può essere un ruba carte dal servitore dal mazzo nemico anche qua ad esempio in un mirror match magari al posto di un titano tu potresti volere anche un banchiere che vada a rubare a stilare carte dal mazzo dell'avversario in cui magari potreste andare a trovare delle spell importanti che poi vi potrebbero aiutare durante la partita furto identità carta value based incredibile pendente per andare a tutorare qualche pezzo principale natale perché una lista 40 carte cannibalismo removal ciclo verme è una carta molto duttile può traddare vi permette di forgiare vi permette di curarvi quindi molto molto interessante foglia losca per andare a rimuovere come lo stesso vale per parola d'ombra e serenità sono tre removal completanti e differenti una per un mazzo più big una per un single target removal in verità b removal perché va a rimuovere doppiamente e serenità invece per quei mazzi token che tendono a swarmare ripulire la scena insieme a pop armonico sono le due removal più consistenti del deck a settimana abbiamo anche amantul il titano del prete fondamentale ve lo potete copiare sdoppiare quante volte volete questa carta è incredibilmente buona il bemut fonte di cura principale del deck gorgo è un'altra carta fondamentale mass removal incredibilmente buona e poi abbiamo un gigante naga gigante naga che finora non vi ho mai parlato di giocare tempo il prete ma in alcuni match up serve ad esempio magari contro warrior avete cercato un stile di giochi in cui volevate andare a rimuovere il suo brand non ci siete riusciti beh allora magari cercate di andare a giocare di gigante naga in modo che lui non possa andare a giocare brand quindi cercare di mettere pressione ogni turno o comunque magari il gigante di naga vi permette appunto di aiutare a chiudere la partita molto prima del previsto appunto essendo dei servitori davvero grandi e potendoli ciclare o comunque copiare a zero mana e quindi essere molto molto forti insomma questa è la lista fate sapere voi cosa ne pensate io vi ricordo mi piace e l'iscrizione andiamo direttamente con i game e andiamo a vedere subito chi sarà il nostro primo avversario contro il nostro control priest contro priest che sappiamo essere un avversario sicuramente ostico speriamo anche non sia un match up troppo lungo ad esempio mirror che davvero potrebbe durare ore e ore vediamo che il nostro opponent è un bel dk dk che possiamo anche accettare amore eterno è abbastanza forte quindi lo andrei a tenere sinceramente e va bene così protocollo possiamo andarlo a forgiare è fine direi che è abbastanza fine tutto quanto quindi forgiamo amore eterna turno 3 turno 4 protocollo andiamoci a sdoppiare probabilmente il titano o vediamo che cosa abbiamo un po' parmonico come rimozione per andare a distruggere il dk possiamo gestire dipende ovviamente da che dk è nel caso in cui non fosse un dk con se fosse appunto un dk con le maledizioni sarebbe un leggero problema ma vediamo da farsi possiamo passare comunque il turno 1 come detto non lo abbiamo cioè abbiamo la luce brucia non serve praticamente trafficante d'arti gioca l'avversario immagino che sia allora un mazzo rainbow quello che vi ho portato io qualche giorno fa si vede che ap c dc è un nostro follo e quindi lo andiamo a salutare grande carissimo che gioca le mie liste infatti ci saluta grande eroe va bene lo andiamo a giocare la nostra spell che ci aiuterà abbastanza credo nel proseguo della partita di sicuro appunto poter scontare le altre carte è incredibilmente forte la talpa potrebbe essere fastidiosa qual è il problema contro questa tipologia di mazzi ecco l'abbiamo visto no il poter giocare la mummia poter giocare insomma servitori che stuccano in bordo davvero davvero tanto come power play finali hanno ovviamente il titano a cui dobbiamo trovare una soluzione hanno come sempre resca quindi dobbiamo cercare di giocarci attorno e così via il 3 4 non dovrebbe poter rimanere più di tanto in campo fatto sta che inizierei dalla spell a 0 qui troviamo un pochino tutto credo che comunque il titano qui sia la cosa migliore vogliamo andare a giocare anche un 2 6 in difesa non lo so se vogliamo andare a giocare un 2 6 in difesa il 3 4 il problema più grande è che rischia davvero di andarli a far pescare tantissime carte se ad esempio hai 4 1 1 che potrebbe decidere addirittura di andare a giocare ma in questo caso comunque andrebbe a millare quindi sarebbe comunque una brutta giocata e direi allora va bene così aspettiamo non mettiamo nulla in campo perché non ha senso andarla a mettere in quanto lo andremo a facilitare semplicemente a farle combo e quindi va bene così anche perché con l'1 2 in campo gli 1 1 diventavano 2 1 e facevano di sicuro molto molto più danni qua ci spinge questi 4 danni va a giocare a un murlocola completamente gratuito ma come detto non è particolarmente un problema possiamo andare a curarci possiamo andare a trovare il bemut vogliamo andare a giocare il 5 5 il 5 5 ci va a togliere il scusate il 4 4 ci va a togliere il 3 4 ci cura anche credo che siamo abbastanza soddisfatti di questo turno ci avviciniamo anche al turno di titano prossima cosa il problema è che dobbiamo andare a tirare una spell potremmo anche andarla a cercare da ancella e magari optare per qualcos'altro ad andare a giocare se l'avversario dovesse andare a sformare beh pop dissonante risulta essere davvero molto molto forte in questo spot però stiamo a vedere come e cosa andrà a fare soprattutto avversario a questo punto frantuma quarzite per andarci a rendere 4 1 va bene probabilmente ci vuole chiudere con l'hero power non è un grosso problema anzi dovrebbe essere piuttosto ok come cosa vogliamo andare a pescare 3 6 7 direi che possiamo iniziare ad andare a pescare poi valutiamo il da farsi serenità non è particolarmente buono silenzio un servitore può essere forte sto pensando a cosa vogliamo andare a silenziare di lui io non credo praticamente nulla ma comunque qui possiamo tranquillamente aspettare andare a trattare in questa maniera qui che siamo abbastanza tranquilli abbiamo il controllo a board abbiamo davvero dei servitori molto molto interessanti tra cui doppio titano in mano e va bene dobbiamo solamente gestire qua va a giocare 4 1 1 ottimo che li abbia giocati senza che lo andassimo a far pescare qua ci cura anche decide di andare a fare hp e qua arriverà la mummia orrore maligno eccolo qui che arriva orrore che non è un problema in quanto lo possiamo trattare con facilità grazie al nostro 3 10 3 10 che andiamo a giocare immediatamente andiamo come dire a selezionare due servitori nemici e rimuoverli dal gioco via la mummia via la seconda mummia e siamo tranquillissimi così da qui andiamo a prenderci un drop a 7 vogliamo andare a giocare a qualcos'altro beh andiamo a millare direi che possiamo andare a silenziarci lo stesso nostro 3 10 in quanto è ok così prossimo turno intanto sarà con tutta probabilità il 3 6 per andare a trattarli a sua bordo io ho silenziato qua il 3 10 perché alla fine non ci serve a nulla se dovesse andare a giocare Silvanas sarebbe un problema a regalargli e quindi secondo me ci sta andarlo a silenziare senza troppi problemi l'avversario ci va a trattare il 3 8 anche qui nulla di troppo problematico questa fa 6 danni un po' troppo un po' troppi però va bene qui io credo che il turno sia molto buono andare a giocare exiliag e possiamo stare abbastanza tranquilli sto pensando se andare a giocare a qualcos'altro io vorrei giocare la spell per ovvi motivi voglio andarmi a copiare qualche servitore qualcosa il titano forse mi voglio andare a copiare beh ci possiamo andare a copiare il titano a dire il vero qua siamo più che tranquilli l'1 2 va a morire muoio anche le reclute vanno due danni testa e voglio sono proprio curioso di vedere come ci traderà questo xiliag questo 3 5 anche perché quel dk lì non è che abbia tantissimi metodi per poterlo fare si prende 3 danni ci va a trattare comunque il 3 3 grazie a salto presidenziale rimangono 3 tentacoli a dover trattare rotazione coltore dovrebbe riuscire a fargli trattare il resto ma il problema è che lui ha sprecato il card draw in early game ma è vero che qua ci tradda tutto ma qua rimane con solamente 3 carte in mano sono davvero pochine per quello che probabilmente vorrà fare l'avversario ne prosegue la partita e direi che va bene a questo punto possiamo andare di 2-6 gli andiamo a giocare l'8-8 andrei nuovamente di 2-6 gli facciamo giocare a 4-4 e cosa possiamo fare? beh, semplicemente possiamo fare value trade qui andare a fare cannibalize possiamo tranquillamente forgiare siamo nel chill più totale abbiamo praticamente distrutto tutto quello che poteva giocare gli rimane davvero con 2 carte in mano e soprattutto gli abbiamo tolto tanti cadaveri dalla spella 10 ora basta mettergli un po' di aggressività andremo a vincere questa partita davvero il prima possibile almeno cercheremo di fare questo vittime non è un problema ora, come detto, iniziamo ad essere noi davvero quelli aggressivi va anche di aeropower sul povero 2-1 noi andiamo di 3-10 in questa situazione abbiamo detto che vogliamo essere aggressivi e saremo aggressivi evocchiamo un servitore a 6 mana oh, non me l'ha evocato evocchiamo un servitore casuale a 6 mana andiamo a prenderci qualcosa di ok beh, l'8-8 comunque ci dà un bel po' di potere in più qua possiamo fare il trading in questa maniera beh, noi ragazzi abbiamo completamente vinto io non credo che ci siano davvero più tante chance per l'avversario comunque possiamo andare di serenità in questa situazione semplicemente per andare a ciclare le spelle spingiamo questi danni testa e passiamo il turno questo 4-6 tra l'altro è enorme incredibilmente forte che stucca il 2-4 è una giocata comunque troppo tardiva ci va a evocare altri servitori che ci fanno danni non lo so non lo so quanto questa partita potrà durare ancora per il povero di K che è davvero troppo troppo sotto pressione troviamo un'altra spell da qui però va bene possiamo tranquillamente chillarci al primo momento andiamo di 3-10 ci possiamo sdoppiare un servitore in questa maniera andiamo a trovare un gigapinda non ne ho la più palea idea di cosa voglio andare a giocare qui sinceramente voglio andare a traddare questo 2-4 probabilmente ci sta andarlo a traddare per un semplice motivo magari potrebbe trovare qualche spell che va a swarmare in particolare quindi essere leggermente fastidiosa anche se comunque penso che sia ok qui in verità ho sbagliato dovevo baffare prima ho missato un danno ma non credo che sarà la fine del mondo in quanto abbiamo settato l'ital per il turno dopo grazie ai due giganti qui avversario va a fare 8 danni ovviamente non sono abbastanza era intuibile che avesse la spell a 10 qui sono 18 21 21, 25, 27 gg world played andiamo a chiudere così la prima partita di oggi tutto abbastanza semplice nulla di particolarmente difficile guardate quantità che avevano in mano avversario ho solamente una c'è da dire che opponent non è che abbia giocato al meglio delle sue possibilità poteva fare sicuramente molto meglio andando a ottimizzare di più sia il card draw sia ovviamente il veleno cosa che non ha fatto ed è stato estremamente punito estremamente punito perché alla fin dei conti poi non aveva quelle risorse per andare a vincere la partita secondo matchup che ci vede giocare contro DK la mano non è un granché nuovamente DK ma va bene vi mostrerò due match uguali non è un particolare problema il protocollo lo possiamo mantenere ma si contro DK secondo me ci può stare non è che ci mette tutta questa aggressività a questo punto il valore ce lo prendiamo e siamo contenti forto d'identità potrebbe essere utile però valutiamo un pochettino ok è un DK almeno diverso quindi il matchup cambia che mi rende abbastanza soddisfatto questa volta è un piaghe piaghe che di sicuro potrà essere problematico quando e se giocherà la 4-4 ovviamente più tardi gioca la 4-4 meglio è per noi però vediamo già che l'avversario ci sta mettendo un conti tiro di ovipiane enormemente grande che ha già trovato al maligan vediamo se avrà anche la fortuna di avere la 4-4 la prima piaga compare tra l'altro la seconda piaga compare e va bene abbiamo già preso fin troppi danni tra quanto mi riguarda vediamo se continuerà a essere così aggressivo e spararmi tutto testa ma lo vedo bello contento e continuo infatti a sparare piaghe va bene così altre 3 piaghe che ci entrano ora setta l'arma avrebbe idea assurdo ok no non ha l'arma avrei aspettato ad attaccare sinceramente forse aveva paura della vipera vediamo le sue 3 carte in mano sono senz'altro molto fastidiose forse 6-5 la cosa migliore qua noi ci stiamo andando a prendere le sue win condition vabbè 3-6-9 carte in mano passiamo al turno sylvanas ovviamente può essere utile sotto alcuni punti di vista qua la 4-4 è comunque forte gli andiamo a fare 5 danni puliamo l'8-1 è vero rimane cioè puliamo l'8-5 è vero che rimane un 8-1 ma qua sono 4 punti salute che aumentano ci fa questo trade va bene non è un particolare problema qua noi possiamo trattare con facilità con la spell a 4 abbiamo altre turni disponibili no in verità avremo 6-5 ma vorrebbe dire ancora prendersi troppi danni che a me non piacciono è vero è un po' uno spreco questa spell su questi due servitori ma noi che possiamo fare molto altro va a dire affiliata in doppia coppia va bene è davvero un po' di maledizioni incredibilmente alto ci ha andato a mettere fino ad ora credo tutte le carte che andassero a mettere maledizioni ci ha andato a giocare comunque qua andiamo a rimuovere e andiamo soprattutto a mettere un buon 6-6 e stiamo a vedere se riesce a tradarci questo 6-6 lui potrebbe andare lì in magata qua a cercare di pescare un po' di carte decide di non farlo il che va bene un po' particolare questa scelta poi il 2-2 secondo me era già molto più scarso si vede che non vuole rischiare di darci spell il problema è che le spell praticamente le ha già utilizzate tutte fonte d'acqua a curarsi nuovamente e continuare a ciclare l'avversario comunque sta tenendo un ritmo davvero elevato noi ne rispondiamo di 6-5 roccia che può andare a tradare il 2-2 a questo punto non andrei nemmeno a fare value trade va bene così almeno giochiamo sopra 4-3 suo che fa 3 danni a tutti rimarrebbe un 6-2 e che mi piace molto molto di più ancella fra poco mi pescheranno tanto la spell da 2 qui mi può andare a trovare delle buone robe proprio che abbiamo anche attivo i giganti del naga qua possono essere altrettanto interessanti vediamo ottomana cosa andrà a giocare l'avversario purtroppo aelia che è la cosa più grave in questa circostanza perché ha giocato tutto e perché credo che gli manchi un'arma no perché ha giocato doppia 3-2 ha giocato doppia spell da 2 e ha giocato anche la cosa quindi vabbè contento te contenti tutti cosa vuoi che ti dica sto pensando sul da farsi secondo me qua ha senso giocare il coin la 3-10 è davvero troppo forte per non andarla a fare andiamo quindi a prenderla possiamo andare a rimuore dal gioco i due servitori non perché siamo particolarmente forti e fastidiosi ma perché comunque vogliamo qualcosa qua non credo che vogliamo qualcosa questo sdoppia le naghe va bene il problema è che andiamo a millare però non è che abbiamo tantissime altre cose quindi lo accettiamo il primus è il turno che va a fare avversario ok ci va a mangiare il 3-10 noi possiamo andare a rubare il primus no perché ha 4 mana cioè silvanas non è ancora attiva però possiamo fare un cannibalismo peccato di aver sprecato la come si chiama la non mi viene il nome peccato 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 aver sprecato la la spella 2 il protocollo di creazione perché qua poteva risultare davvero tanto tanto valore comunque la borda è fortissima sono proprio curioso di vedere come riuscirà a tradarci al dk sta roba 4-3 ha trovato un ottimo valore pezza carne dal primus è incredibilmente buono ci va a togliare silvana sta alpa di fogna però qua gli entrano 16-20 siamo 2 off niente abbiamo top deck l'ita e siamo di sicuro contenti questa cosa buono gg world played dk si è giocato tutto sulle piaghe ovviamente le piaghe workano a fine partita tra l'altro non ha nemmeno giocato attorno al pulitore perché il pulitore sarebbe stato incredibilmente forte noi in questa lista non la giochiamo perché di dk non se ne trovano tantissimi ed è un po' subottimale però vabbè è andato lì peccato che non è la giusta win condition giocato completamente a tempo terzo e ultimo game andiamo a vedere chi sarà il nostro avversario di ora sperando che non sia un dk visto che abbiamo giocato appunto prima ed è un bel warrior warrior avversario più ostico rispetto al dk sicuramente molto più ostico anzi possiamo andare a scambiare tutto non ci interessa particolarmente questa mano contro warrior vogliamo andare a trovare carte migliori tipo talpa di fogna è senz'altro molto utile contro warrior magari gli possiamo togliere il suo bran gli possiamo togliere magari appunto qualche carta che effettivamente è molto molto importante per il suo il suo game style proprio per questo motivo voglio andare a giocare mediatamente il 2-6 anche perché ciò possiamo andare a riprendere al prossimo turno abbiamo già tolto un astalor il che è fortissimo contro warrior davvero devastante ci fa il value trade va benissimo così noi andiamo dispella 2 ci andiamo a copiare andiamo a spaccare l'1-1 e siamo nel chill voglio togliergli ovviamente il suo bran penso che lo abbia in mano penso potrebbe averlo in mano e quindi io cerco di giocarme in questa maniera purtroppo no ha un 5-8 ma va bene comunque non è un particolare problema un 5-8 per noi va a fare armor va a giocare la 2-2 avrei preferito che scendesse per ovvi motivi la 2-2 ma va bene furto di identità vediamo se ha bran niente ha ignis che sarebbe stato anche carino se scendesse ignis ma niente è tutto questo dagli abissi possiamo andarci a prendere andiamo a fare questo trade e passiamo il turno ignis è comunque buono possiamo forgiare andare a giocare a ignis che vale comunque la pena va di sotterrare urto va a finire il trade in questa maniera ok così gli rimane un 5-2 noi possiamo rispondere con un'altra tampa di fogna per togliere ignis ignis comunque è buono gli andrei a togliere eccolo qui infatti che scende possiamo rispondere anche con un 3-4 che va bene così gli abbiamo tolto tantissimo valore il problema è che non gli abbiamo tolto bran che era l'unica carta che gli volevo andare a togliere ma va bene così d'altronde non si può avere tutto nella vita anche se sarebbe stato decisamente forte andargli a togliere masso per andare a rimuovere il 2-6 anche se per ora non ce la fa a meno che non so trovi qualcos'altro di incredibilmente forte dalla spella 2 perché questo trade è davvero molto molto brutto per lui quindi io trovo una carta proattiva da qua oppure non ci potrà dare il nostro 2-6 che gli sta sopra perfettamente il 3-3 è buonissimo non fa schifo totalmente e infatti si deve spaccare addirittura il 5-2 sul nostro 2-6 siamo molto contenti di questo Serpino sa scambiarsi a mano possiamo andare a scambiare a forgiare scusate qua è forte lui ma quanto è forte lei a dire è vero quindi andiamo comunque a farla andiamo a fare value trade e passiamo il turno cioè lei è davvero troppo più forte per non andarla a fare in questo punto scudo saldo è ok va a forgiare l'avversario ricordiamoci che probabilmente ha doppia removal in mano va bene così partirei col cercare il titano titano che non arriva fa un po' tutto schifo questo mancello ci abbiamo già a sto punto andiamoci a prendere il gigante che ci dà tanto valore da qui possiamo andare a prendere un furto di identità che comunque è fastidioso vogliamo andare a pescare vogliamo andare a forgiare un'arma io credo che l'arma sia più che fine ci possiamo andare a prendere quella a 10 fu l'evento è molto buona è un conservatore casuale ottomana è comunque fortissimo andiamo a fare un turno del genere che mi piace abbastanza il martello dell'artigiano non dovrebbe essere un particolare problema va a fare value trade l'avversario noi qua gli iniziamo a buttare giù un po' di nage ovviamente non lo restendiamo perché sappiamo che l'opponente ha modo di fare cose che andiamo a pescare il 2-4 è comunque ok in quanto possiamo giocarlo immediatamente rubargli qualcosa beh gli rubiamo di sotterra che comunque non è mai male la spell da 1 vediamo che cosa ha sanitizzazione può essere utile probabilmente più utile scosse reno è utile la spell da 6 può essere più utile a dire è vero è niente da fare non è che abbiamo dei grandissimi turni qua possiamo andare di sotterrare noi addirittura otteniamo due monete 3-6-7-8 va bene a questo punto almeno andiamo a fare un turno del genere e andrei semplicemente a pescare ancora il behemoth ci piace di più e va bene prosico un pochino non poter giocare le 8-8 ma cioè magari una potevamo giocarla il problema è che questo 3-1 è fastidioso perché mai riesce ad andare a traddare magari possiamo andare di 8-10 prossimo turno e qualcos'altro vediamo magari facciamo value trade 8-10 e una naga in modo da incentivarla a utilizzare qualche removal da qui ci va a giocare un 8-8 siamo contenti l'unica cosa che mi dava fastidio è se scendeva 3-2 però intendo per essere tutto abbastanza forte per noi qualsiasi cosa fosse scesa va bene andiamo a fare un po' di trade in questa circostanza andiamo a traddare così possiamo andare a traddare in questa maniera andiamo a traddare in questa maniera vogliamo andare a overstendere ancora io non credo che vogliamo andare a overstendere qua 3-6-7-8 andiamo a mettere un po' di board accordo ci da qualcosa non particolarmente il problema è che andiamo a millare il punto è che non voglio giocare nient'altro qui e quindi ci andiamo a prendere il mille d'altronde oddio potremmo utilizzare il coin il coin non serve a nulla va bene qua probabilmente andrà a giocare una removal avversaria perché sono tanti danni 5-13-15-18 inoltre abbiamo anche l'arma qua che è estremamente forte il prossimo turno arriverà sicuramente fiamme non me lo fa sull'8-8 interessante come cosa non mi dovrebbe traddare niente beh mi traddà lui forte ok trovo comunque il 4-5 la p5 d'attacco passerà probabilmente qua il turno 9 danni me li voglio prendere probabilmente ci prendiamo 9 danni non me ne frega niente gli andiamo a mettere tanta borda e va bene così no Tyrion non ci credo perché perché tra tutti proprio Tyrion cioè ti odio ah quanta fatica ragazzi quanta fatica quanta quanta fatica mi vado a traddare il 6-3 il 6-3 dovrebbe evoccare qualcosa il Bemo ci abbiamo già il 4-4 con elementare giustamente qua va a fare sanitizzazione va bene così fatto sta che ora comunque ho utilizzato la removal possiamo spingere davvero tanto tanto testa andare lui lui andare a ciclare insomma possiamo fare robe possiamo pushare questi danni qua questi danni qua ulteriori vogliamo andarci a copiare i giganti probabilmente si non lo so nemmeno io voglio andarlo a fare probabilmente si andiamo a prendere un ulteriore 8-8 a giocare al prossimo turno va bene 8-16 25 siamo a 5 off possiamo trovare comunque un qualcosa dagli abissi come mossa disperata da parte open abbiamo rubato ass non ha praticamente più niente il 4-4 va bene è forte però non credo che possa bastare qui di tanto anche perché noi qui continuiamo a giocare roba davvero molto molto buona continuiamo a pushargli i danni una carta rimanente da parte di opponent 16-21 22 danni siamo 3 off semplicemente prossimo turno insegnante la mossa disperata da parte avversario da cui faremo cannibalismo per curarci l'8-6 e poter andare a ciclare tutto quanto con la 3-2 sa che oddio scudo saldo è molto forte soprattutto perché va a pescare in questa situazione potrebbe essere problematico perché va a trovare brand e da 1-3 gli fa ulteriore armor andiamo a fare lei possiamo andare a fare la spella 4 qui per andare rimuovere più o meno tutto possiamo andare a fare così così sentite andiamo a chiudere questa partita se topdecca non lo so dio sceso in terra porta lui però intendo qua la partita dovrebbe essere chiusa meno che non topdecca un peschino e poi non lo so reno qua è l'unica soluzione io non ci posso credere ragazzi cosa stiamo parlando davvero seriously reno vabbè pesca una carta pure cioè l'unica soluzione è reno o il cardro reno il cardro cioè man davvero sei imbarazzante non ho parole vabbè ha sei carte in mano vediamo se riuscirà a fare miracoli con sei carte in mano noi abbiamo una mano terribile ora abbiamo solo removal passiamo il turno mamma mia quanto sto iniziando a rosicare placatura la va a scambiare perché non fa niente demolitore è molto forte perché fa di sotterrare due e probabilmente qua giocheremo a mantul gemma giocherà probabilmente un servitore a mantul andiamo a togliere doppio servitore risulta essere molto buono noi abbiamo davvero tolto tutto il valore che potevamo astalore abbiamo tolto il coso il 4-6 non è un particolare problema gorgo vogliamo fare gorgo non credo credo che il 3-10 vada davvero più che bene selezionare un servitore no selezionare due servitori nemici selezionare loro due vediamo cosa andiamo a trovare 6-5 io credo che sia abbastanza ok vogliamo andare a scambiare questa mano ma no credo che sia forte già così vediamo questo top deck visto che già sta giocando solamente al top deck in questo momento cosa prevederà codino abbastanza forte e il 5-5 addirittura va bene importante che non trovi il 6-10 poi per il resto va benissimo ma in verità può prendere tutto intanto gorgo anzi il 6-10 sarebbe pure vantaggioso sotto certi punti di vista anche se il 3-10 probabilmente mi andrà a spaccare questo nostro titano vabbè qua lui sbaglia secondo me perché si va a prendere il nostro titano ma noi qua abbiamo ovviamente la removal essendo prete ah no perché lo riesce a giocare vero ok ho fatto una bella giocata in verità perché con 4-7 riuscite a trovare il 6-10 e va bene e soprattutto si va a prendere valore che è la cosa peggiore in questo spot andiamo a giocare la spella 8 andiamo a forgiare passiamo il turno due danni gratis ok ok e passa qua va bene noi abbiamo protocollo andiamo a prendere il 2-4 che ci da comunque valore perché gli andiamo a rubare carte gli andiamo a prendere prova del fuoco gli andiamo a giocare un altro 2-4 gli andiamo a prendere la placatura sono danni alla fine andiamo a prendere placatura possiamo andare a giocare qualcos'altro io non credo tendenzialmente se andare a giocare semplicemente a placatura e passare qua il turno una carta una carta rimanente che è brawl noi abbiamo più servitori tempesta di lame è ok lui deve vincere semplicemente di hero power vediamo se ci riuscirà il 3-4 è abbastanza debole molto curioso di vedere se riuscirà a vincere il 3-4 avversario non penso che sia possibile lontanamente e minimamente lo 0-2 è una follia quanto vabbè noi lo faremo pescare all'infinito non andremo mai a rimuovere quello 0-2 tutto questo e infatti va a concedere qui il game va bene ragazzi sono un po' rosicato per il running top deck into la cosa però alla fine il nostro game style era quello di andare a togliergli tutto il valore l'abbiamo fatto gli abbiamo fatto rubato 3000 carte dal mazzo gli abbiamo tolto astalor che era la carta più problematica gli abbiamo tolto ignis che era un'altra carta problematica e quindi poi ci siamo portati a casa la vittoria che dire terza vittoria bella combattuta contro warriors vengono sempre belle partite spero che il video di oggi vi sia piaciuto vi ricordo come sempre un mi piace e soprattutto un'iscrizione e niente noi ci vediamo domani ovviamente con un nuovo video alle 13 ciao ciao